Nel frattempo dovremo avere con noi in collegamento Dario Levantino, vediamo se è pronto il collegamento. Eccolo qui, grazie Dario per essere con noi, grazie per averci stato il nostro invito. Ciao, ciao, grazie a voi di avermi invitato. Allora, Dario è uno scrittore, un insegnante, ma soprattutto nell'ultimo anno ormai famoso, possiamo dire così, per un libro, un libro di Fazzi Editore che ha raccontato, in quello che è stato il trentennale delle stragi di Capace di Via D'Amelio, la storia, la storia tra un cane, un cane randaggio e Giovanni Falcone. Il libro è Il cane di Falcone, lo possiamo anche vedere in grafica. Dario, come nasce l'idea di raccontare momenti particolari, a tratti anche bui della storia della nostra Italia, attraverso il racconto in prima persona di un cane? Ma, diciamo che tutto nasce da un tema di una mia alunna. Ogni anno io tengo un corso di educazione civica con i miei alunni. Quell'anno avevo fatto un corso sulla mafia negli anni 80, negli anni 90, e una mia alunna, alla fine di questo corso, aveva scritto un elaborato dicendo una cosa terribile, tipo che Giovanni Falcone, dopo tutto, se si fosse comportato come tutti gli altri magistrati, probabilmente oggi sarebbe vivo. Da qui allora, come dire, l'esigenza, in quanto insegnante, di affrontare il tema della mafia, però in una chiave diversa, perché sentivo di avere fallito. E quindi, insomma, nulla, volevo raccontare la storia di Falcone, ma in una nuova chiave, anche con un po' di ironia, con un po' di leggerezza. Fino a quando mi sono imbattuto in questa notizia di cronaca, cioè di un cane randaggio che finisce per vivere e per stazionare all'interno del tribunale di Palermo, dove, dopo la strage di Capaci, erano state installate delle statue di Falcone e Borsellino. Questo cane aveva preso a vivere, proprio all'interno del tribunale, proprio ai piedi della statua di Falcone. Dunque, i magistrati, gli avvocati si erano presi cura di lui, gli avevano dato un nome, Uccio, gli avevano dato anche un soprannome, cioè il cane di Falcone. E quindi, avendo letto questa notizia, mi è perso un ottimo artificio per raccontare la storia di Falcone in una chiave un po' più ironica. Per favore, posso chiedere alla regia di sistemare un po' l'audio perché c'è un ritorno in cuffia fastidiosissimo. Tra l'altro, Dario, come dicevi tu, in realtà Uccio è esistito davvero, è un cane che poi è esistito davvero. Non ha probabilmente mai conosciuto Falcone e Borsellino, ma è stato a vegliare su quell'estate di Falcone e Borsellino nell'altro del tribunale di Palermo fino al 2018. Si diceva, tu dici Uccio da Edipuccio, proprio come diceva Falcone, anche mia madre mi chiamava Nino da Giovannino. Su questo libro ha detto l'osservatore romano, hai parlato anche tu di raccontare queste vicende, questi anni bui con leggerezza. L'osservatore romano ha detto una leggerezza che però, come insegna Calvino, non è mai banalità. Non è mai banalità perché si tratta poi di usare due parole fondamentali per questi racconti. Una è la memoria e l'altra è il coraggio. Qual è allora il coraggio di Uccio in questo racconto, di questo cane amico di Giovanni Falcone? E qual è la memoria che passa anche attraverso le parole di Uccio? Innanzitutto devo dire che sono rimasto molto colpito da quelle parole dell'osservatore romano, perché quella grande lezione di Calvino è una di quelle a cui sono più legato, cioè il tema della leggerezza e della serietà. Calvino, nelle lezioni americane, a un certo punto spiega questa cosa qui. Cioè l'arte, qualsiasi forma essa suma, deve tendere alla leggerezza. Leggerezza significa non superficialità, significa planare sui argomenti difficili, a volte drammatici. Nella convinzione forse che non esista affronto più efficace di una risata, anche della risata di fronte alla morte. Diciamo che forte di questa convinzione ho deciso quindi poi di dare un taglio un po' più ironico alla storia di Falcone, cioè raccontare la storia di Falcone, ma con una chiama un po' più ironica, anche perché Falcone, stando alle testimonianze, era una persona molto ironica. Quanto al coraggio, è certamente uno dei temi di tutto il romanzo. Io sono un insegnante di lettere, e spesso con i miei alunni spesso con i miei alunni ragiono sulle etimologie delle parole. Tante volte adoperiamo le parole, diciamo, dimenticandoci del loro significato. Per esempio la parola coraggio è un'etimologia straordinaria, viene da una base latina, corcordis, da una parola latina corcordis che significa cuore. Dunque è coraggioso colui che espone il cuore ad un pericolo certo. Così fa sia Falcone nella lotta alla mafia, così fa il cane, che però inizialmente non è coraggioso, anzi inizialmente ha tantissima paura. Ecco, in questo romanzo prova a spiegare che il coraggio, diciamo, si nutre del suo contrario, cioè della paura. Cioè, in altri termini, tutti i coraggiosi della storia, diciamo, da Ettore fino ai personaggi delle serie tv, di cui si nutrono i nostri giovanissimi, sono eroi che prima hanno avuto paura. Cioè la paura diventa condizione necessaria per avere coraggio. Cioè una frase bellissima, poi diventata una massima di Falcone, no? A un certo punto una giornalista le chiede, ma quindi lei magistrato, lei Falcone, quindi lei non ha paura, no? E lui risponde, come se non ho paura? Io la paura ce l'ho, ma l'importante non è stabilire se uno ha paura o meno, l'importante è saper convivere con la propria paura, e non lasciarsi condizionare dalla stessa. Ecco, il coraggio è questo, altrimenti è incoscienza. È una frase molto bella, davvero, perché ci dimostra ancora una volta che la paura non è l'esperienza peggiore che possa accaderci. In questi giorni, credo che mezza Italia, lo dico perché in classe i miei alunni me lo chiedono spesso, credo che quasi tutti stiamo guardando questa serie tv di fare fuori, no? Ecco, anche in questa serie tv, il protagonista, Uchi Attillo, non so se lo state vedendo anche voi, è inizialmente un personaggio che ha tantissima paura. Poi, paradossalmente, però, la paura gli infonde coraggio. Ecco, in questo romanzo succede una cosa molto simile. Falcone ha paura, di conseguenza ha coraggio di combattere la mafia. Il cane, che cresce con il magistrato, anche lui ha paura, ha paura dei bastoni, perché da piccolino, da cucciolo è stato oggetto di violenza per mezzo di un bastone, alla fine della propria esperienza di vita impara ad avere coraggio. E memoria e coraggio sono appunto i due binomi imprescindibili per questo libro. Dario, io so che tu sei a scuola e che tra poco ti dobbiamo anche liberare. Poco fa hanno bussato, mi sono preoccupato, aiuto, scusatemi. Ci fermiamo solo qualche secondo per un istante di pubblicità e poi altri due o tre minuti e ti liberiamo. A tra poco. E' 9 e 27 minuti e stiamo ancora in collegamento con Dario Levantino, scrittore e insegnante siciliano, palermitano d'origine, ma in realtà insegnante adesso a Monza, nel nord Italia. Dario, ti racconto l'esperienza anche di scrittura di questo libro, Il cane di Falcone, lo ricordiamo nuovamente, Fazzi Editore, che ha anche il patrocino della Fondazione Falcone. Maria Falcone, tra l'altro, ha detto è un libro che ci insegna che affrontare i propri mostri e sconfiggerli è molto più facile di ciò che temiamo. Qual è la percezione che hai avuto e che hai nella vita di ogni giorno su come è sentito il tema della mafia e della criminalità organizzata tra nord e sud? Ma c'è, diciamo, tantissimi luoghi comuni, ci sono tantissimi luoghi comuni e c'è, come dire, un'aura di leggenda che è difficile da combattere. Diciamo, dall'uscita del romanzo l'anno scorso, aprile 2014, 2022, scusatemi, ho visitato circa 100 scuole. Moltissimi, lo capisco, lo intuisco dalle domande che mi fanno, moltissimi credono, sono convinti che la mafia sia un fenomeno locale, nato in Sicilia, soprattutto siciliano, e oggi vive sostanzialmente in Sicilia. Beh, questo è un luogo comune. In realtà i rapporti della DDA, della Direzione Distrettuale Antimafia, ci dimostra proprio il contrario. Sì, sicuramente, storicamente la mafia nasce in Sicilia tra, diciamo, metà 800, fino a 800, sostanzialmente, grossomodo, durante l'unità d'Italia, ma dopo la grande stragione stragista degli anni 80 e degli anni 90, la mafia si è soprattutto trasferita nel nord Italia, perché lì, diciamo, fa affari più facilmente. E questo è stato un luogo comune più difficile da combattere. Cioè, tantissime volte mi chiedono, ma quindi la mafia in Sicilia, come si combatte, come se il fenomeno fosse soltanto regionale. Questo penso che sia la percezione più diffusa, è errata, senza dubbio. Grazie, grazie Dario per essere stato con noi. Ovviamente l'invito anche a te, magari in futuro, a venirci a trovare proprio qui nei nostri studi a San Giovanni Rotondo. Sappiamo che sei spesso in giro per la presentazione del libro, anche a Foggia, in provincia di Foggia, o comunque in tutta la Puglia. Quindi l'invito, perché no, ad accoglierti prossimamente qui, nei nostri studi. Era Dario Levantino, autore del libro Il cane di Falcone, fazzi editore, e tra l'altro autore, sempre con fazzi editore di La violenza del mio amore, cuore bomba e di niente e di nessuno. Grazie Dario per essere stato con noi. Grazie a voi. Buona paresima e buona Pasqua per i prossimi giorni. Grazie a voi. Buona Pasqua anche a voi. Ciao. Ciao.